Vado? Vai! Arrivo! Arrivo! Amore, ma che ci fai qui? Porta madre! Ma scalzone! Pensate che è tratto da una storia vera che Gianluca ha letto su un giornale di una ragazza inglese che il giorno prima del matrimonio ha scoperto che il suo futuro marito in realtà era un attore porno e non lo sapeva. Io suo figlio non lo voglio più sposare! No! Per carità, non fare così, Camilla! Mi ha mentito! Prendi fiato, Camilla! Mi ha tradita, maledetta! Ti senti il diaframma, Camilla! Che gli hai sentito? Vieta là con me, vieta a bere un bicchiere d'acqua e poi tutto passa, Camilla! Scusate, posso dire una cosa? C'è in maniera leggera, ma c'è quella morale che ti fa uscire dal teatro dicendo però, pensiamoci! Fate guardare, pure del profilo! Se lo vedessi, predamante, che cos'è tuo figlio? C'ha pure la camicia col collettare o per spiare come piaceva a te! Senti figlio mio, si sposeranno? Si sposeranno? Eh beh... Papà! Maria e papà! Maria ti conosci! No, papà, per favore, lasciami almeno il tempo di spiegarti! Ma che cos'è lei? Che cos'è lei? No,! Vien, vien! Vieni, vien. Vien, 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 vien! Vien, la cosa! Grazie a tutti.